. Barbara D'Urso non è rifatta, il tenumano la tocca a Domenica Live e ci prova con lei. Barbara D'Urso non è rifatta e ad affermarlo è un vero e proprio esperto di ritocchini. Stiamo parlando di Rodrigo Alves, l'uomo più rifatto del mondo che è stato oggi ospite di Domenica Live. . Nel corso di un vivace dibattito dedicato alla chirurgia estetica, il cosiddetto che inumano si è alzato dalla poltroncina bianca su cui sedeva in tv per analizzare la conduttrice di Canale 5. . Per farlo in maniera approfondita e non superficiale, si è concesso pure una palpatina al décolleté dell'avvenente sessantenne partenopea, affermando che è tutta roba naturale. . . L'uomo ha poi guardato la D'Urso con attenzione in viso, asserendo che sia sugli zigomi che sulla fronte non cae la mano del chirurgo. . 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 La napoletana è tutta naturale. Rodrigo ci prova con Barbarella e la invita a cena, è successo tutto in diretta tv. Il chenumano, così come è stato ribattezzato dai giornali di tutto il mondo, ha avuto il suo momento di gloria pure in Italia. È successo nel corso della prima puntata del talk condotto da Barbara D'Urso Domenica Live, in onda su Canale 5. Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per il bel paese e per le sue donne, Rodrigo, apertamente affascinato dalla conduttrice partnepera, l'ha invitata a cena, tentando un vero e proprio approccio. Vieni a mangiare una pizza con me e sarò tutto tuo, ha esclamato denanzi ad una lusingata e un po sconvolta Barbarella.